Oh yes, aver visto l'Italia, essere un grande paese molto bello, a me piacere tutte le belle tonne d'Italia, io dire allora andando per la via, volere baciamente mio, volere, una tonne a me dire, eccoci a ferra, questo è mio bacio, e dare una manaccia, oh ragno, noi mi torni in Chittarra, questi chiamare schiaffamenti in faccia, oh, yeah. Avere visitate l'esposizione, Torino, Roma, Terenze, Napoli, Positivo, Venezia, Rosorone, Vermicelli, Vesuvio, Fobongole, e poi Laguna di Milano, oh, grande, San Pietà d'Orto, dove io fare ballo, io a Roma, Coliseo, Quadri di Dante, Terme di Racca, di Car, Car, Calda, tutto passamente magnifico, foro troiano con carta all'interno, foro romano, tutto foro antico, ma trovare anche lì foro moderno, a ori, eh. A me piacere, Napoli, oh, yes, tutta la gente chiamarmi Maccarone, e spiegazione a voler dire, uomo bello moltamente, a ori, eh, esserì è grato, Maccarone, ma le donne voler assai termine, però essere tutto buono, pieno, faccio, donne inglese sempre a tanti stecchini, coppia la mente in pezzo, in altri posti. Più che amare una cancionetista, fare regalo a quattro, cinque, sei ogni giorno, ma dopo aver visto che a me regalo avete fatto lei, oh, yes.